Sono arrivato alla fine di quei sei mesi stanco, quando ho stoppato ho stoppato perché veramente ero stanco, non ce la facevo più Uno, due, ero senza soldi, perché ovviamente andando in giro tutti i giorni, facendo un'attività tutti i giorni, mangiando tutti i giorni fuori Viaggiando, comprando viaggi, aerei, andando in giro di qua e di là Io sono arrivato alla fine di quel periodo lì che ero Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Simon Oliveri e oggi siamo con Efra Mlamesta Ciao per la seconda volta Per la seconda volta sei l'unico che è venuto già due volte all'interno di uno dei miei contenuti Sono onorato Per me è un onore, non per te, per me è un onore Quanti episodi avevi fatto della prima stagione? Undici, ne ho fatti undici, poi mi sono tornato qua in Inghilterra e poi dopo tre anni, ci è voluto poco Una pausa di tre anni, ma i cantanti si prendono anche più tempo Hai ragione, dovrei partire da quel presupposto lì Mi ricordo che dopo che è uscito il video mi hai detto, no ma ci sentiremo nel futuro, sono sicuro che questa cosa succederà E quindi quella cosa in me la sono sentita, me la sono attaccata all'orecchio Ed è rimasta Ed è rimasta, certo che è rimasta Ha funzionato Certo, ma perché io qua racconto le ossessioni delle persone e racconto un po' la loro storia Però in realtà lo faccio per poi un giorno poter raccontare la mia Che è volentemente questa qua Senti, io e te abbiamo un background molto molto simile Perché veniamo da posti vicini Probabilmente mezz'ora di macchina E abbiamo vissuto, siamo cresciuti nello stesso contesto Vorrei che tu mi raccontassi, partissi nel dirmi quali sono le principali sensazioni che tu hai avuto crescendo Quindi nell'età adolescenziale Perché secondo me sono poi quelle che ti hanno portato a fare determinati tipi di scelte Come ti sentivi? Chi era Efram Lamesta prima di essere Efram Lamesta? Mi fa ridere Beh, meno male è sempre la stessa persona Nel senso che molto semplicemente crescendo non ho mai trovato il mio posto E quindi un pezzettino alla volta ho cercato di capire chi ero E all'inizio non era facile trovarlo anche perché che cosa fai? Soprattutto in paesini piccoli tendi a conformarti un po' a quello che è il tuo gruppo Le persone che hai più vicino Che sono date da chi hai effettivamente al tuo fianco Perché poi da piccolo non avendo una macchina, un modo di spostarti, niente Alla fine sei ristretto alla tua area E quindi le persone che conosci sono bene o male quelle dieci, quindici Soprattutto in paesini piccoli come i nostri Conta che il mio paese Agnella aveva mille abitanti all'epoca Ok, nel mio due middle doppio, una metropoli Esatto Quindi, insomma, tutta roba piccola per cui puoi perderti E io all'inizio mi sentivo trascinato in direzioni che non erano le mie Senza ovviamente rendermi conto Finché quando poi mi sono reso conto di questa cosa Ho cominciato inevitabilmente da... Non ho mai avuto una personalità che si... Uniformasse Troppo agli altri Ok Esatto E quindi tendevo poi a isolarmi Però nell'isolarmi comunque avevo bisogno di sfogare Quello che avevo dentro Esprimerti in qualche modo Esprimermi E quindi è per questo che ho trovato poi YouTube ad un certo punto E mi sono detto questo fa per me, mi piace Mi diverto E chi se ne frega se nessun altro lo fa Se non ho nessun altro con cui condividerlo Io mi trovo bene Mi dà soddisfazione E quindi ho cominciato a farlo molto semplicemente Sì Ho notato anche che comunque sai Quando uno cresce nei nostri posti Ma tutte le realtà provinciali C'è spesso quelli che vanno a fare un determinato tipo di università O un determinato tipo di professione Ma non c'è nessuno con cui cresci Che fa... Ne parlavamo prima con Kelsey Non c'è nessuno che va a fare il producer Lo youtuber Quindi è anche molto difficile avere dei... Partire da qualcuno A avere dei segnali Dei punti di riferimento Dei punti di riferimento Capito? E quindi quella cosa lì Sei da solo Sì E devi trovare un modo per tirarla fuori Cosa ti ha dato YouTube? Un riscontro? Hai trovato della compagnia magari? Oltre che del divertimento? Sì, chiaramente Non hai nessun altro intorno a te E quindi cosa fai? Cerchi questa cosa da un'altra parte Secondo me anche il fare video in generale È quello Cioè se ti trovi un bel gruppo Vicino a te E ti trovi bene Nel condividere determinate cose Non hai necessità di cercare Altro al di fuori Io ho sentito questa necessità E sì era per esprimermi Per raccontare delle cose Ma ovviamente anche per creare Un gruppo di persone Che mi potesse capire Trovare gente con cui Effettivamente condividere delle passioni Che all'epoca non riuscivo a trovare O era rarissimo E poi comunque tutti persi Nei nostri gruppi Nelle cose Per cui non riuscivi neanche a creare Quasi nulla O era veramente molto raro E quindi YouTube mi ha dato la possibilità Di conoscere tantissime persone All'epoca YouTube faceva ancora Un sacco di Meetup Esatto dal vivo Tra canali piccoli Io avevo mille iscritti La prima volta che sono andato Forse meno addirittura Forse 600 Ad un evento di YouTube A Google E per me era una roba folle Andare Avere un invito Per andare da Google A Milano E lì però Ho cominciato a conoscere Tante delle persone Che poi sono diventati I miei amici Che conosco adesso E che con cui Con i quali sono cresciuto Sono un po' Scusa ti interrompo Quegli amici di cui mi stai parlando Sono un po' gli unici Che ti capiscono in qualche modo? Beh in particolare All'epoca sì Cioè riuscivo effettivamente A condividere delle robe Che altre persone Non riuscivano a comprendere E con loro invece Riuscivo a parlarne Di tutto questo O per esempio Parlavamo tantissimo Di YouTube Di lavori Di strategie Di cose che con altre persone Magari riuscivi a parlarne Un pochino Ma non veramente Ok E lì hai capito Che poteva diventare un lavoro Un qualcosa che potevi fare Nel tuo futuro Ma in parte Però è sempre stato un Lì quando ho cominciato A andare a YouTube È stato interessante Perché ho cominciato A vedere altre persone Che trovavo semplicemente online E dirmi Cioè esistono veramente Sono qua nella stessa stanza In cui sono anch'io Quindi effettivamente Se ce l'hanno fatta loro Ce la posso fare anch'io In un modo o nell'altro E quindi Parte da lì E poi Un pezzettino alla volta Ma il punto centrale È che ti deve piacere Se non ti piace davvero Se non ti dà veramente soddisfazione Poi a un certo punto Abbandoni Perché è difficile E richiede tantissimo tempo E tantissime volte In cui ti sbattono la porta in faccia Oppure Non riesci a fare le cose Non funzionano E quindi devi andare Per quanto ti possa piacere Devi andare oltre E poi arriveremo a parlare della musica Ma questa roba qua Funziona In qualsiasi ambito Per arrivare all'eccellenza Anche comunque Devi essere in qualche modo sessionato Che è anche un po' Il cuore di questo programma Ma io ti dico questo perché Mi sono proprio reso conto Che montare video Esportarli Proprio per me È come far nascere un bambino In qualche modo Cioè nel momento in cui Clicco export Sento proprio della dopamina Effettiva Cioè è l'unico momento In cui mi sento In qualche modo Che ho lasciato un qualcosa Di mio al mondo E condividi un pezzo di te Esatto E in tanti lavori Che ho fatto prima Non c'è mai stato Un determinato tipo di soddisfazione Pari a quella cosa lì Quando clicco quell'export E poi lo pubblico Non c'è nient'altro Non c'è altro feeling al mondo Come quella roba lì È una cosa che ti succede ancora Ormai hai perso un po' La novità È interessante ma Un po' se ne va Quella parte Quando poi diventa un lavoro E hai delle Delle scadenze da seguire Delle cose da fare Certo Però non se ne puoi mai andare del tutto Perché nel momento in cui se ne va Smetti di fare video È finita Perché non ti interessa più Non te la godi Non ti diverti Per cui è molto importante Cambiare Riuscire a cambiare Nel corso del tempo Che è una delle robe più difficili Soprattutto su YouTube Proprio per questo motivo Perché cambiando Modificando delle cose Tu riesci poi A ritrovare questa passione E siccome lo devi fare Per tantissimo tempo La parte creativa Rischia di andarsene A un certo punto Ed è un peccato E tu come fai a reinventarti? Ci saranno dei momenti In cui hai detto Ok Non me ne esce più Non sto più Non sto più Non sto capendo cosa sto facendo Comunque voglio riuscire A trovare un nuovo filone Narrativo Cosa fai in quel momento lì? Continui a fare Quello che fai tutti i giorni Quindi a far video E a fare quello Che stai realizzando E io personalmente Ascolto Qualcosa che ho dentro Una voce Che di solito Mi indirizza E ogni tanto poi Ti dimentichi come ascoltarla Te la perdi un po' E poi nel corso del tempo Quando poi ti perdi E ti ritrovi In un punto In cui stai facendo qualcosa Che però non ti dà più La stessa soddisfazione Ti senti un po' perso E hai bisogno Di quel nuovo stimolo Il primo passo È capire Che cosa c'è che non va Qual è l'inghippo Qual è il problema Tipo per me adesso Sono in una fase Di questo tipo Perché mi ritrovo A stare a casa A montare video Tutto il giorno E a non riuscire a pensare A robe future A cui vorrei pensare Nuove idee che ho Nuove cose che vorrei realizzare E non riesco a realizzarle Perché sono a casa A montare video E mi prosciugo Facendo questa cosa qua E tutto il resto Se ne va Per cui in questo caso Facendoti un esempio pratico La soluzione per me È trovare persone Che mi possano dare una mano Nel montaggio Così che io mi posso Togliere questa parte Che è sempre stata Una delle mie robe preferite E mi piace ancora molto Cioè talvolta Mi metto a montare un video Del canale dei parchi Del primo canale Semplicemente perché Ho voglia di rilassarmi A montare un video E quindi ogni tanto Va benissimo Altre volte Devo stare lì seduto A fare quella roba lì E quello toglie Tutta quella parte Di creatività Di cui ti metti lì E capisci che cosa vuoi fare Qual è la prossima idea Cosa vorresti realizzare Programmare O anche essere in giro a girare Se devi far uscire una roba Devi stare lì No certo Secondo me sei arrivato a un punto In cui devi scalare Per scalare Devi per forza avere Bisogno di qualcun altro Tornando solo alla tua domanda Prima di tutto Capisci qual è il problema Una volta che hai individuato Il problema Ti sposti A risolverlo Una volta che risolvi Il problema Riesci poi a tornare Quindi È normale Perdersi E succede spesso Però Per reinventarsi Prima capisci qual è il problema Una volta che l'hai capito Ti sposti Alla parte successiva Che è Tornare a ideare E a quel punto La creatività ti torna Cioè quella stessa creatività Che avevi all'inizio Su una roba precisa Che ne so Era la tecnologia Per me una volta Piuttosto che Ti rendi conto Che hai voglia di viaggiare Hai voglia di esplorare Un po' il mondo Pian piano Introduci magari Nella tecnologia Un po' di viaggi E quindi fai il viaggio Con il dispositivo Che provi Durante Così Pian piano Alleni il pubblico E soprattutto Tu capisci Se effettivamente Fa per te Perché poi Quella è una parte grossa Se ti butti A capofitto E poi non ti piace C'è qualcosa Che non funziona E quanto è importante Per te Cosa piace al tuo pubblico E quanto piace a te Appunto fare Quel tipo di format Perché sicuramente Quando diventa un lavoro È un dato di fatto Che sia importante Cercare di capire Anche cosa piace E cosa funziona Assolutamente Tu come gestisci Quella cosa lì Cioè Avanti come un treno Te ne sbatti Di quello che potrebbe piacere Ma fai quello che vuoi tu Oppure Trovi un equilibrio Tra quello che ti piace Quello che può piacere E il discorso è che Non è facile Trovare questo equilibrio E quindi io mi trovo Ad avere problemi Ogni tanto Ma lo sento Perché poi Non mi piace più Come cosa sto facendo Non mi diverto E quindi lì Poi mi rendo conto Che c'è un blocco E c'è qualcosa Il discorso è che Devi andare avanti Tu a fare le cose Che piacciono a te Che devono ovviamente Avere senso Cioè non è così semplice Non è che Se mi piace giocare Con le paperelle Quella roba lì funziona E filmo le paperelle Che giocano Devi comunque integrarle Cioè È un insieme di elementi Sarebbe bello Poterti dire solamente Vai dritto con un treno E fai la tua roba Il problema è che Quel treno deve essere Calibrato bene Deve essere tutto regolato Deve avere corrente elettrica Che lo porta avanti Deve avere Tutto quello Tutto un contorno Le rotaie che funzionino Devi impacchettare Un qualcosa Che ti dà un'emozione Per il pubblico Comunque Se vuoi andare Per conto tuo Senza pensare a nient'altro Quel conto tuo Deve avere All'interno Tutto quello che Effettivamente Cioè la parte business La parte creativa La parte E non è facile E non tutti ce l'hanno Certo E io per esempio Sul lato business Faccio più fatica Una roba su cui Devo concentrarmi Un po' di più Ogni volta che devo Svilupparla Perché non mi piace Fondamentalmente Preferisco molto di più La parte creativa E quindi Tendo a fare un pochino Più fatica Quindi se vado dritto Come un treno Tendo magari Andare più Verso la parte creativa Che quella di business Che però è fondamentale Devono andare Di pari passo E quindi magari Mi perdo un po' In alcuni momenti Ok Quindi comunque Ci va un equilibrio Un equilibrio Ma se impari A integrare Questo equilibrio All'interno Della tua personalità Poi riesci A andare dritto Come un treno E a trascinare Dietro il pubblico Perché seguire trend Seguire robe Che funzionano Per carità Lo puoi anche fare E funziona Su TikTok È basato su questo No? In buona parte Ma chi poi fa Veramente la differenza È chi cambia le cose Chi porta avanti Un'idea Che ne so MrBeast Porta avanti Delle robe solide Effettive Ha creato Un nuovo stile Di YouTube E poi dietro di lui Ha la fila Di gente Che balla E lo segue Qualsiasi mossa Lui faccia Però sono tutte copie Del MrBeast Anche se fanno Milioni di visualizzazioni Comunque non sarai mai Bravo quanto Il primo Che ha cominciato A fare quella roba lì Ti seguo talmente tanto E guardo con attenzione I tuoi contenuti Che so che è una frase Da Casey Nestat Che è andata a ascoltare Incredibile Pazzesco Sono molto contento Di questa cosa Che posso riuscire A percepire Un po' il discorso Perché hai molta ragione Lui ha creato Un nuovo modo Di comunicare E dietro ci sono Milioni di persone Che cercano di imitare La stessa cosa con Casey Quando inizio a fare i vlog In Italia C'è qualcuno Che fa una roba del genere Oppure sono tutti Un po' più separati C'è un altro tipo di mercato Tu dici qualcuno Che setta un trend Mi viene in mente Iyaki Però comunque Tutto arriva un po' Dall'America Dall'America Ci sono delle robe Molto belle in Italia E ci sono dei canali Spettacolari Che so Joe Pop Per esempio È un Vero Molto bravo Un ottimo canale Loro sono Fenomenali E all'estero Non c'è veramente Ci sono ovviamente Canali simili Certo Però personalmente Secondo me loro Per esempio Sono un'eccellenza Che noi abbiamo In Italia E che se un giorno Cosa che secondo me Faranno a un certo punto Cominceranno a doppiare Tutta la roba in inglese O avranno successo All'estero Un enorme successo Anche all'estero Beh questo vale anche Per tanti canali italiani Secondo me anche Dei contenuti Per esempio Di Iyaki Che vengono poi Con l'intelligenza artificiale Riprodotti In diversi tipi di lingue Potranno diventare virali In tutto il mondo Assolutamente Cose più particolari Tipo La maratona in casa Esatto Pure costruzioni Cose strane Che sono molto La winster beast In qualche modo Sì 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 Il problema è che Da noi Comunque Questa cosa Me ne sono resa conto Viaggiando E tu vivendo qua Te ne renderai conto Anche se come dicevamo Prima Londra Ha un sacco di italiani Quindi magari Un po' meno di New York Un milione di italiani Però Quando arrivi in un altro posto C'è una cultura Completamente diversa E anche le robe più semplici Tendono a cambiare Per cui tu Che Fai un video in italiano Per un pubblico italiano Riproporlo negli Stati Uniti Non necessariamente funziona O magari Dici delle robe Che per loro Sono sbagliate Certo Perché culturalmente Comunque è differente Questo è anche un po' Il discorso Che di cui poi ne parleremo Di New York Che è anche un po' Il tuo posizionamento Perché te andare a New York Ha avuto un incredibile impatto Sulla crescita del tuo canale Perché ti sei posizionato In una fase di scarsità C'è New York Che fa contenuti Grande Nessuno Piero Armenti E nessun altro Esatto Quindi sei per esempio L'italiano New York Under 30 Per addietti Sì sì Questa è una cosa molto importante Prima di New York Parlami di Milano Come ti sei trovata a Milano? Era un modo per avere più network Hai trovato soddisfazione In questa cosa Poi te ne sei andato Come tutti sanno Però prima Fase di Milano Raccontamelo un po' Milano è stato un momento In cui avevo bisogno Di fare questo salto Di spostarmi Dopo di essermi laureato Sempre nelle nostre zone Vicino a Cuneo Sei laureato tu? Sì sì Comunicazione multimediale All'Accademia di Belle Arti Di Cuneo Ok E poi a quel punto Le scelte erano due O cominciare a fare Videomaking Probabilmente sempre su Milano Perché è il posto Dove c'è più lavoro Certo Per quanto riguarda Quel mondo Oppure Cominciare a fare YouTube E vedere se effettivamente Poteva funzionare E all'epoca Conoscendo altri amici YouTuber Eccetera Parlando di business E di idee Questo mio amico Alessandro Gastiub Che tra l'altro Salutiamo Di Mondovia anche lui E tra l'altro Di Mondovia anche lui È di Mondovia anche lui Cioè Giriamo sempre tra di noi Incredibile Sì alla fine sì Però lui mi disse Guarda io Mi sono fatto un business plan Scaricandomi una mappetta Da internet E l'ho completato Prefatte L'ho completato Con i miei obiettivi Le cose che volevo fare Eccetera E mi ha aiutato tantissimo A costruire Quello che faccio oggi E mi sono detto Vabbè proviamo E ho scaricato questo business plan L'ho completato Ed effettivamente Mi sono dato Sei mesi di tempo Per riuscire a fare YouTube E quindi mi sono detto Ok sei mesi Mi concentro su questo Se funziona bene Se non funziona Mi trovo un lavoro Di un altro tipo E effettivamente Nel giro di circa Tre mesi Tre mesi qualcosa Ha cominciato a funzionare Quanti iscritti avevi all'epoca? Quando Penso intorno ai Quindicimila Ok Quindi non ci lavoravo Non era niente Però poi Cominciando a ragionare Con un business plan E quindi ogni idea Che mi veniva Facendola passare Attraverso quel business plan Dall'altra parte Usciva qualcosa Che aveva un senso Ed era pensato Per un pubblico Ed era un inizio Una programmazione Possiamo chiamarla Sì una programmazione O comunque Sai hai un'idea E dici Anziché realizzarla subito Prima ti fermi E dici ok Questi sono i punti Che devo seguire Sono le mie cose principali Le mie cose più importanti Di tutto questo Di quest'idea Che cosa posso filtrare E tenere Che ha senso Rispetto ai miei valori A quello che E quindi poi dall'altra parte Esce qualcosa di Pensato Per il tuo pubblico Per quello che hai Per quello che vuoi costruire Anziché realizzare Una roba che magari È totalmente diversa Invece la stessa idea Semplicemente modificata Può funzionare E quello Mi ha permesso Di riuscire A fare le cose E a quel punto Mi sono spostato a Milano Esatto Una volta arrivato a Milano È cominciato il covid E quindi io sono rimasto Just in casa Ciao Però In realtà sono arrivato lì C'erano un sacco di eventi Ho conosciuto molte persone Nei primi Sono arrivato a fine 2019 Novembre Ok Quindi mi sono trasferito a Londra Proprio quei mesi lì E fino a marzo Io ho girato Ho conosciuto persone Il più possibile C'erano eventi tutti i giorni A Milano all'epoca Veramente tantissimo Poi da marzo Ci hanno chiuso in casa Io sono rimasto a Milano Anziché tornare dai miei Mi sono detto Sto qua Ho tutta la mia roba La mia attrezzatura Mi invento qualcosa In quel periodo Il canale è cresciuto tanto Perché facevo tecnologia Tutti in casa Tutti bloccati Tutti che cercavano robe su Amazon Compravano E guardavano video su YouTube Perché non c'era niente da fare C'è stato un'impennata Per tutti i canali YouTube E io facendo video da casa Con la tecnologia Mi bastava ordinare il prodotto E poi parlarne Recensirlo Parlarne appunto Ho realizzato robe particolari Un video musicale Fatto in casa Per un artista O Me la sono proprio goduta A livello creativo E E mi sono passato Questi anni di Milano Poi pian piano Si è riaperta un po' Ma da quando poi Effettivamente Si è riaperta del tutto Non è più Stata la stessa Milano E verso la fine della pandemia 2021 Fine 2021 Dopo due anni in casa Praticamente tra una cosa e l'altra Sei qualche viaggio Qualche spostamento Ma Sempre lì Mi son detto Parlando con Iachi Lui mi disse Perché non vai a New York? Dal nulla Ogni tanto Iachi è così Dal nulla Ti ha un'idea Ti lancia questa roba qua E io Era una roba che avrei sempre voluto fare Ma non ci avevo mai pensato E quindi a quel punto Mi son detto Sai che c'è? Va bene E Iachi mi regalò il biglietto Per andare a New York Per Natale Che poi non ho usato in realtà Perché Vabbè insomma Dei problemi tecnici Per cui ho dovuto prendere Un altro biglietto Perché non potevo volare Direttamente a New York Dall'Italia Dovevi fare prima Dovevi fare due settimane in Messico E poi volare a New York Era l'unico modo Era fine 2021 Fine 2021 Ok Però È stato un bel incastro Perché nessuno viaggiava ancora Nessuno stava negli Stati Uniti A raccontare le robe A parte Piero E quindi io sono arrivato In un momento Dove la gente ancora Guardava tantissimi video Con lo strascico della pandemia Tantissimi Non andavano a New York Da anni Ormai Era tutta bloccata Esatto Il viaggio non c'era Ed è la città turistica Per eccellenza Anche New York È piena di italiani Ma a livello turismo Certo E quindi Mi son trovato in un momento In cui io Mi sono praticamente trasferito E raccontavo la mia vita Tutti i giorni Facendo un video al giorno Per sei mesi Sono andato avanti Da New York E lì c'è stato Un momento di crescita È stata la prima volta In cui veramente Ho visto questa palla di neve Che rotola Da una collina Per citare sempre Casey Che tra l'altro Che tra l'altro citava qualcun altro Con questa roba qua Non l'ha detto Tutti che citano tutti Ma è normale Comunque Questa palla di neve Che rotola Dalla collina E si ingrandisce sempre di più E più va in giù Più si ingrandisce Più si ingrandisce Più diventa grossa E lì hai avuto un'altra I primi tre mesi C'è stata una bella impennata Poi tornando in Italia Perché il mio visto Durava tre mesi E poi sarei dovuto tornare Ovviamente è scesa un po' Poi è risalita Quando sono tornato negli Stati Uniti Ma non ha mai ripreso Ad andare come Quei primi tre mesi Probabilmente Se fossi stato là Più tempo Sarebbe cresciuto ancora Molto di più In maniera esponenziale Perché c'è proprio Una richiesta di gente Che vuole vedere Gente a New York New York Ma in generale Sai cosa Al di là della città È proprio l'idea Dell'avventura In quel momento Dove nessuno viaggiava E quindi Di essere da qualche parte Di scappare un po' Dalla realtà Dalla routine di tutti i giorni Uno Due Certamente New York Ma qualsiasi altra città Anche Tokyo Probabilmente avrebbe funzionato Bene o male Allo stesso modo New York ha un fascino gigantesco Ovviamente Però È più L'idea dell'avventura Con qualcosa da seguire Capire che cosa succede a questo Che si è spostato là Senza conoscere nessuno Senza avere legami Senza niente Che cosa gli succede Ed è super affascinante Quindi ovviamente Poi Essendo giornaliero E la gente avendo una routine Lavorando da casa O comunque Anche ricominciando ad andare al lavoro E a far cose Resta nella routine Quindi ogni volta A pranzo La gente magari si guarda il video E continua a seguirlo Quindi insomma Nell'insieme Secondo me Si sono incastrate un po' di robe E ha funzionato Però Per tornare a Milano Da cui siamo partiti Perché lasciare Tra l'altro Io non l'ho lasciata a quel punto Avevo ancora la casa a Milano E la mia idea era Vado là Faccio tre mesi Poi torno in Italia E basta In realtà Poi la casa L'ho tenuta ancora Fino al 2022 O 2023 Inizio 2023 L'ho poi Effettivamente lasciata E ci sono tornato Per un po' di mesi Qua e là Ma bene o male Sono stato tanto in giro Perché ogni volta Che tornavo Alla fine stavo in casa Montavo i miei video Non facevo nulla Di che Quando torno Piacere di stare con la mia famiglia Passare un po' di tempo con loro Anziché stare chiuso a Milano A editare Sto a casa La sua a editare E almeno ho passato tempo Con mia nonna Con i miei Con mio fratello E per cui non aveva più senso Per me Pagare una casa a Milano Per Cioè che cosa c'è Che veramente fa la differenza Per me lì In questo momento Se ho bisogno di andare Che c'è un evento Prendo e vado Se è veramente interessante Ma altrimenti Anche starmene Lassù in mezzo ai boschi Dopo tutto il casino Viaggiare Spostarsi Mi fa veramente piacere Quindi è più una scelta Non che Milano Non sia interessante Per uno che inizia O che vuole stare in Italia È sicuramente il posto dove stare Ed è una bellissima città Io ho innamorato di Milano Però ovviamente Avendo New York da un lato Quando torno qua Mi piace proprio l'idea Di staccare E rilassarmi un po' E quindi questo è il motivo Per cui non sono più a Milano Non ho un posto lì Certo Guarda Cambio totalmente discorso Vorrei parlare Della tua musica Sì Ma prima di parlare Della tua musica Vorrei parlare Del motivo Per cui tu hai deciso Di fare della musica Tu sporadicamente Ne hai parlato in alcuni video Di questa relazione lunga Che hai avuto Che poi è finita E secondo me È una cosa che funziona molto Anche a livello appunto Di storytelling Perché tante persone Si possono Diciamo avvicinare A quello che tu hai detto E come tu l'hai raccontata Proprio a livello di energia Che ti ha portato questa cosa Raccontamela un po' più nel dettaglio Nel senso Raccontami un po' Cosa hai provato in quei momenti lì E da cose Cos'è nato Da quel periodo Sicuramente Di tristezza Che hai passato Perché ti ripeto questa cosa qua Io l'anno scorso Ho avuto un periodo simile Per sicuramente Ragioni diverse Situazioni diverse Ogni storia è molto diversa Però Mi ha dato Una grande forza Una grande energia Quasi una Un'energia che Come ho letto Come ho sentito In diverse interviste Da ragazzi di cui Ne parlavano simile a noi Non può essere distrutta Ma può solo essere canalizzata E quindi È una cosa che Mi ha davvero Interessato E mi sono sentito vicino In quel momento lì Raccontami un po' Cosa hai sentito E come hai sviluppato Questa cosa Beh Chiaramente Sono tutte emozioni Molto forti E Non sono per niente Facili da gestire Però Per me è proprio stato Un Prendere Quelle Tutta quella roba Che sentivo Che era Super frizzante Ovunque in me E cercare di spostarla Su quello che facevo Laborativamente Tra l'altro poi Era prima della pandemia Poi tutta la pandemia In casa Facendo video E cercando di realizzare Il più possibile Costruire il più possibile E poi una volta finita Finita Tutto il periodo Della pandemia Volare New York E realizzare sempre di più Ed è stato un periodo Di Crescita Dove ho imparato Tantissimo E dove sono effettivamente Cambiato io Parecchio E ho Partendo dalla tristezza Assoluta Che provo in un momento Del genere Poi Pian piano Il mio La mia risposta La mia prima risposta È Ci sono persone Che si chiudono E fanno molta Più fatica di me Ad esempio Per me ogni volta Che c'è qualcosa Che non funziona Qualche problema Una volta Che l'ho processata Nel giro di un paio Di settimane Poi per me diventa Tutta l'energia Che devo scaricare Perché se no esplodo Interessante questo Perché comunque Da fuori Ti dico Da persona che ti segui Sembri proprio un bravo ragazzo Una persona che tiene agli altri E si vede È anche uno dei motivi Per cui secondo me Tanta gente ti segue E quindi quella risposta Di cui tu mi stai parlando È interessante Perché tu vai in qualche modo A scaricare questa tensione Magari Altre otto persone su dieci Si chiuderebbero in casa E magari starebbero male E impazziscono in depressione Perché poi succede Cioè è una cosa Stracomune Anche durante quel periodo Io non ho mai smesso Di far video Ho sempre continuato Questo è stato interessante Tanto che io stesso Non riesco a decifrare Me stesso In quel momento Quando accendevo la camera E per me era proprio Uno scappare da quelle sensazioni E andare da un'altra parte Completamente Poi lo spostarmi a Milano La scelta è parte Di tutta quella roba lì E la musica Arriva in tutto questo Perché tramite video Non riuscivo a canalizzare Totalmente tutto questo E avevo bisogno Di un'altra parte Un altro mezzo di comunicazione Un altro mezzo di comunicazione Per raccontare Quello che volevo raccontare Il problema di cui ti parlavo prima È che Per fare roba creativa Comunque Ti deve piacere Veramente tanto Di avere il tempo Di dedicarcelo Va benissimo Ma ti deve piacere E se ti perdi nel processo Perché non ti fa impazzire Non te lo godi al cento per cento Poi fai veramente fatica A continuare Quindi Musica Bellissimo Mi piace Studio Imparo il piano Studio Sia dizione Prima che poi effettivamente canto Le provo tutte E soprattutto Ogni sera Io mi mettevo lì E suonavo Perché era il modo Che avevo di scaricare Tutta la tensione Che avevo Ancora Cioè al di là dei video Di quello che facevo A livello creativo Quello era il modo Con cui io Scaricavo tutto quanto Ancora più che il resto E quindi poi a un certo punto Ho messo i puntini insieme E ho detto Ma aspetta Ma se io questa roba qua La racconto effettivamente E nel frattempo È arrivata l'idea di New York E quindi mettendo insieme i pezzi Ho detto Io vado a New York Racconto questa roba della musica Lancio questo progetto Però da New York Che ha tutto il contorno Del renderlo interessante E poi pian piano Racconto la mia storia Quello che mi è successo Nel modo giusto Perché poi c'è la canzone Per raccontare effettivamente Tutto quello Che sono le mie sensazioni Però Integrandole nei video E la mia idea era Così comincio anche Tutta la mia carriera musicale E poi pian piano Miglioro Realizzo cose Eccetera E vado anche in quella direzione Continuo a fare i miei video Perché mi piacciono Ma avevo voglia di qualcosa di nuovo Facendo tutto questo E sono uscita È uscita la prima canzone Poi la seconda Adesso sta uscendo La terza in questi giorni E mi piace Voglio continuare a fare musica Mi piacerebbe Realizzare qualcosa Anche di fisico Ad un certo punto Magari nei prossimi anni Con calma Continuare a far uscire Altri pezzi Su cui ho lavorato E sto lavorando Senz'altro Ma Non mi è piaciuta per niente L'industria musicale Come è costruita Quanto è chiusa Quanto la gente cerca di fregarti Quanto è un mondo di squali Quanto la gente ti dice Guarda che devi farlo in questo modo Per farlo funzionare Dopo le prime due canzoni Ho avuto proprio un momento di Ero stufo Non volevo più fare musica Niente E quindi mi sono riconcentrato Su YouTube Che comunque Da tutta questa esperienza Mi sono reso conto Che è la parte centrale Che mi interessa Che mi piace E che voglio continuare Ad avere Per cui la musica Anziché diventare Una parte primaria Che porta avanti Tutto il resto È diventata Un'aggiunta Un accessorio A quello che faccio Già su YouTube E dei video Per renderli più interessanti Per raccontare qualcosa in più Certamente Ma non il centro Che io mi immaginavo All'inizio Cominciando a fare questa roba qua Perché? Perché più lo facevo Più mi rendevo conto Che mi piace Mi diverso Sedermi a un piano E cantare Mi rilassa Soprattutto quando ho forti emozioni Ma non è la mia Primaria Il mio primario metodo Di comunicazione E quindi non ho voglia Di mettermi lì Tutti i giorni A fare A suonare Quando sto bene Quando sono tranquillo Ed è quel discorso Che facevamo prima Del Puoi cercare Di fare una roba Fartela piacere Ma se veramente Non ti piace E non ce l'hai dentro Troverai un ostacolo A un certo punto E che ti fa dire Guarda che non ho Non ho abbastanza tempo Perché devo fare Tutti gli altri video Un sacco di roba Deve vedere scuse E quindi quello che sto facendo adesso È ogni volta che ho Un'ispirazione Un'idea Mi metto lì Scrivo delle robe Poi ne parlo con Andrea Cerrato Che sia Piuttosto che altre persone Che Con cui faccio musica Effettivamente Perché è sempre Comunque collaborativa Parte da una mia idea Da dei miei pezzi Ma poi si collabora insieme Per realizzare qualcosa di bello Che possa aiutare altri Questo è il mio obiettivo Con la musica E passare Emozioni che ho dentro Ma quando ne ho voglia Senza pensare ad un album Senza pensare a Nulla di particolare Io faccio uscire i miei singoli Li racconto magari con un viaggio Mischiandoli insieme Perché poi il primo singolo Era uscito così Con questo viaggio In Norvegia Siccome Raccontava un po' Questo concetto Dello scappare Scappi da una roba Che ti fa paura Che sia una relazione Che sia Finché ti rendi conto Che nel momento in cui ti fermi Quella roba torna a prenderti Per cui non c'è nulla Da cui scappare in realtà E quello era il concetto Della prima canzone Quindi mi sono detto Faccio un viaggio in Norvegia In Tesla Guidando da solo E arrivavo lassù In questa casa Sull'albero In mezzo al nulla E la metafora è Scappi Ti allontani Poi ti fermi E ti rendi conto Che ce l'hai sempre dietro Non è che puoi veramente Scappare dalle tue sensazioni Se non le affronti Le guardi E solo così Che poi diventano Meno spaventose Ed era il concetto Della canzone Raccontato tramite i video Tramite questa avventura E anche tramite il video Della canzone L'hai espresso bene Questo concetto E poi tramite il video Della canzone Esatto Che hai fatto con la tua Attuale ragazza Tra l'altro Sì Interessante Kelsey Che è qui con noi Non si vede fuori Della camera Ma è qui con noi Esatto Interessante E quindi insomma Niente Questo per dire che Ricollegarmi a quello Che ti dicevo prima Che appunto Ti deve piacere Certo Se no puoi essere Puoi avere tutti gli strumenti Che vuoi Tutto quello che vuoi Ma se Non sei veramente Chiamato a fare quella Io potrei studiare Molto di più musica Molto di più Però preferisco Fare altre cose E tenerla Godermela Come un hobby Quasi Certo Quando c'è Senza veramente Farla diventare un lavoro Che va benissimo Ma ti devi piacere Perché questi lavori creativi Se non ti piacciono Diventano Veramente molto pesanti Qualsiasi lavoro Chiaramente Però Non sono lavori meccanici Dove puoi fare Quella roba lì E funziona Devi pensare Devi ragionare Devi cambiare costantemente Anche perché poi si vede Secondo me Il pubblico lo nota Non arriva Non arriva Non arriva E quindi Questo è Deve essere Cioè ti deve piacere Ok La parte fondamentale Sei una persona ansiosa? No Non particolarmente Gestisco Bastanza bene Cioè Ho imparato a gestire Nel corso del tempo Le emozioni Soprattutto da quella rottura Per me è stato Analizzare Capire me stesso Tantissimo Nel corso dei tre anni Successivi Ho capito Cioè mi sono ascoltato Ho imparato Ad ascoltarmi Tanto Ed è lì che ho imparato Poi a seguire Le mie sensazioni Che mi dicono Guarda Ti devi spostare A New York È quello che Cioè È la cosa giusta Al momento Cioè anche ora Io potrei tornare a Milano E dire Faccio delle robe a Milano Ma non lo sento Come il posto giusto E New York È mille volte più difficile È una città folle Dove veramente Devi lottare Per sopravvivere Non diverso da Londra Ma In più sei Dall'altra parte Dell'oceano Lontanissimo E In un mondo Di squali Sì Dove non è che dici Eh prendo un volo Più o meno Perché noi qua Facciamo i fenomeni Ma volendo in un'ora Siamo a casa Capito Lì invece è diverso È quello Cioè si Da Milano a casa Alla fine sono tre ore Di macchina Cioè Da qua a Londra Cioè da qua a Milano Alla fine Ben o male Quello è Quindi È un po' È un po' Quello Però La sento Cioè sento che è la roba giusta Da fare Ok E quindi Anche se non so esattamente Il perché ancora Ho degli elementi Che sto cercando di mettere insieme Ma non ho Un quadro completo Comunque Sento che è la roba giusta E quindi ascolto tanto Quello che ho dentro Perché secondo me Poi Sta lì No Impari ad ascoltarti E sai dove andare E a volte perdi un po' Questa voce Del nuovo singolo Parla di questo Quando non riesci a sentirti Non riesci ad ascoltare E quindi cerchi E ti perdi un attimo E poi riesci A ritrovarti appunto Ascoltando te stesso A ritrovare la tua strada Guardi tanto Quello che fanno i tuoi colleghi O no Cioè nel senso So che tu hai tante conoscenze Tanto networking Ormai dopo anni Che fai questo lavoro Ci mancherebbe Però tu Quando esce qualcosa altro Di qualcuno No È qualcosa che È all'interno Del tuo campo visivo Anche quando Tu pubblichi tanto Hai ridotto un minimo Però C'è stato Quei sei mesi In cui hai pubblicato Un botto Sì sì Un video al giorno Voi c'è due Perché c'era l'altro canale Esatto Incredibile Cioè tantissimo Ora pubblichi Un po' di meno No infatti Quello è folle Infatti ve lo parla Del burnout adesso Ma Riguardo i tuoi colleghi Che sono comunque amici Oggi Ti influenzano Influenzano Quello che fanno La quantità La qualità La frequenza È una cosa che ti Sprona Non ti crea ansia Apparentemente No Abbiamo avuto sempre Un rapporto molto aperto Con tutti gli amici Che avevo a Milano Tutte le persone Che conoscevo lì Ma ho anche il mio gruppo Più vicino Da Iachi Otto Mr. Novadi Mattia Insomma Tutti quanti Nel gruppo Gas Gas Tube Noi abbiamo avuto sempre Una relazione Molto aperta Tra di noi Quindi se una roba Fa schifo Ti dico che fa schifo Ma è sempre Cioè Dirti bravo C'è Ok Però è più Un spronarsi a vicenda A fare sempre meglio E ovviamente Io faccio qualcosa di bello Gli altri lo vedono E cercano di migliorarsi E così via E comunque Continuiamo ad andare Di pari passo Adesso anche gli altri Stanno trovando persone Che gli possano dare una mano In quello che fanno E quindi Sostanzialmente C'è Un Una competitività sana Se vuoi Dove ci si aiuta a vicenda Ci si porta avanti Ci si spinge avanti A vicenda In tutto questo percorso Ansia no Perché è proprio sempre Un Un collaborare Un spingersi a vicenda Anche in maniera Molto secca E diretta Però senza fronzoli Senza Cosa che non puoi fare Ho imparato che non puoi fare Con le altre persone Non funziona Devi mediare Devi Sì 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 Renderla un po' Però se è accettata Questa cosa Con un'altra persona Che hai davanti È la roba più semplice Perché vai dritto al punto Certo Certo che ti puoi offendere Ti puoi Però poi capisci Che è inutile E trovi la critica Anche se te la Te la raccontano In maniera Un po' Diretta O Poi cominci a capire E Riesci ad andare In quella direzione Per cui appunto No Non Non crea ansia Non Però c'è sempre Una sana competitività E i video li guardo Nel senso che li seguo Per anche restare aggiornato Non sono i video principali Che guardo io Io guardo un sacco di roba Scientifica Da Kurtz Gassina Nutshell A Joe Pop Prima di andare a dormire Di solito Al mattino video Sui parchi di divertimento Storie di attrazioni Becchissime Abbandonate Perse Mai realizzate Queste sono le due categorie Che veramente guardo Perché me le godo E mi rilasso E poi Tutti gli altri colleghi Le persone che conosco Eccetera Ovviamente seguo Quello che fanno Magari non proprio Tutti quanti i video Però di solito Cerco di tenermi aggiornato E di guardare Anche quello che Che fanno Ma poi li sento Personalmente Quindi Cioè Quando Mr. Robby è venuto a New York Mi ha raccontato i video Che faceva Le robe che sarebbe andato a fare Quindi comunque Ho già un'infarinatura Oyaki ogni tanto Mi manda un video Prima di pubblicarlo Per chiedermi un'opinione O viceversa E quindi Capito C'è sempre Magari non vedo L'ultimo cut del video Però Sì 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 È più o meno L'infarinatura generale Di quello che uscirò Riesco a seguire Chiaro Quando hai fatto Quei sei mesi a New York In cui pubblicavi tutti i giorni Sei arrivato a un punto In cui non c'avevi più? Eh sì Sì? Nel senso E' successo lì? Come ne sei uscito? Iniziata Devi sapere che In quel periodo Io non avevo una vita Ok Io facevo video Quindi ero i miei video Io sono partito da solo Senza conoscere nessuno Zero Zero totale E non c'era nient'altro per me C'erano i video Facevo video tutti i giorni Mi svegliavo al mattino Alle sette Pubblicavo il video Facevo una veloce colazione Uscivo Andavo a girare il video Lo pubblichevi la mattina quindi Pubblicavo la mattina Perché là Le sette sono le luna Del pomeriggio qua E quindi era comodo Pubblicare a quell'ora Sette luna Avevi ancora da finirli Io li programmavi Quindi erano già pronti Erano già pronti dal giorno prima Quindi per me era Mi sveglio Pubblico il video Vado a girare il video Più o meno fino alle quattro Del pomeriggio massimo Torno a casa Edito Fino alle dieci di sera Con una pausa cena A un certo punto Dieci di sera Finisco tutto Metto la copertina Preparo tutto pronto Per il giorno dopo Vado a dormire Al mattino mi sveglio alle sette Wow Clicco pubblica E ricomincia Tutti i giorni così Per duecento video Che ho fatto Cinque giorni su sette Tutto Sette su sette Sette su sette pubblicavi Per questi mesi lì Tutti i giorni Wow Un video al giorno Per tutti i giorni Per E ci sono stati dei giorni In cui ho saltato Ma semplicemente Per pubblicare Il video dei parchi Quindi un altro Anziché montare quello Comunque C'era sempre un video Tutti i giorni Non ne ho saltato Neanche uno E È stato bellissimo Io mi sono divertito Tantissimo Anche perché Era una scusa Per fare un miliardo Di cose Infatti io conosco New York Come le mie tasche Perché ho visto Talmente tanto Sono andato Talmente tanto in giro In quei sei mesi Che veramente Sì 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 Ti sei quasi obbligato Dover uscire Nelle nostre zone Se uno mi dice Il corso Che ne so A Mondovì Non li so neanche Non ti so neanche Fare un esempio A Mondovì Io ci devo pensare Un attimo E poi forse Mi viene in mente Se uno dei principali Invece Manhattan Ce l'hai tutta in testa È anche più facile Perché sono numeri Quindi bene o male Poi solo tipo Parallele perpendicolari Però al di là di quello Comunque L'ho veramente girata tanto Quindi sono riuscito Mi oriento Veramente molto bene In quei sei mesi E quindi appunto Sono arrivato Alla fine di quei sei mesi Stanco Quando ho stoppato Ho stoppato Perché veramente Ero stanco Non ce la facevo più Uno Due Ero senza soldi Perché ovviamente Andando in giro tutti i giorni Facendo un'attività tutti i giorni Mangiando tutti i giorni fuori Viaggiando Comprando viaggi Aerei Andando in giro Di qua e di là Io sono arrivato Alla fine di quel periodo lì Che ero Prosciugato Di qualsiasi cosa Però quelli maturavano Sì sì Poi dopo Ha ricominciato A funzionare Ovviamente Ma sono arrivato A quel punto lì Dove veramente Stavo spendendo Tantissimo Stavo E la crescita c'era E probabilmente Avessi continuato Avrebbe continuato A crescere Nel corso del tempo Ma non era la stessa crescita Dei primi tre mesi Ok E quindi All'epoca Mi sono detto Ok è il momento Di stoppare un attimo Ma poi sì Soprattutto Ero veramente Molto stanco Non ce la facevo più A pubblicare video Ad andare avanti Poi ti ripeto Avessi avuto Più fonti economiche Cioè Non avessi avuto Problemi economici Da quel punto di vista Magari mi sarei detto Vabbè Ritorno a New York Faccio altri mesi A New York Però New York vuol dire 2005 In quel periodo lì Che era ancora economica 2005 al mese 3000 al mese Solo di affitto Quanto spendevi Mensilmente In quei mesi lì In totale 5000 6000 5000 dollari 6000 dollari Sì Almeno Poi dipende dall'attività Magari fai il viaggio Ti sposti Poi sono andato a Dubai Però mangiavi spesso fuori Quindi anche per fare i video Sì perché poi Viaggi un bot Parlavamo prima Cucinavo Anche comprare La roba da cucinare È comunque carissimo A New York Quindi Non c'è via di scampo E quindi Non ero sull'astico Però mi son detto Anziché prosciugare tutto Rallentiamo un secondo Facciamolo più ragionato E capiamo un attimo Qual è il prossimo step Adesso E poi Mi sono riregolato Ho ricapito le cose Cioè non ho mai avuto Veramente problemi Da dire Oh mio Dio Adesso che faccio Però ci sono stati Dei momenti dove Mi dicevo Ok non vado a mangiare fuori Anche se gli altri Stanno andando Con calma Dammi un secondo Si è tirato un po' Il cing Anche per questione di tasse È cambiato Regime forfettario Adesso ordinario Poi vabbè Adesso ho aperto Un SRL Quindi va bene Però c'è stato Un momento di transizione Complicato Quindi Insomma Tra l'altro A me non piace C'è veramente Tutto quel lato Quindi faccio più fatica A seguirlo Però va seguito Certo Non hai nessun altro Che te lo può fare E poi ultimamente Hai conosciuto la tua ragazza Sì Come gestisci la produttività La pubblicazione Con avere un'altra persona All'interno della tua vita Perché Ecco Questo è interessante Capito Perché sicuramente Prima tu mi fai Guarda Io ho fatto sei mesi Di video una volta al giorno Ero da solo Non avevo nessuno attorno Montavo 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 Registravo Fine È una cosa di cui Mi rendo proprio conto Perché Ultimamente Mi succede appunto Che anche io Voglio fare tante cose Ma ci sono altre persone Un'altra persona A cui voglio dare Le mie attenzioni Voglio gestire un po' La situazione al meglio Ok Perché ovviamente Voglio farlo E si merita un po' Il mio tempo Come gestisci tu quella cosa? Numero uno Come hai detto tu È una scelta Nel senso che tu scegli Di avere una persona Al tuo fianco Perché è una roba Che vuoi nella tua vita Uno dei tuoi obiettivi Una tua scelta Uno Secondo me E quindi come tale La prendi seriamente Come qualsiasi altra roba Che fai Quindi Punto uno Deve essere chiaro questo Perché se non ti interessa Allora che stai a fare? Una volta che fai la scelta Dici ok Voglio avere una relazione Bisogna imparare a gestirla E le relazioni Come tutti sappiamo Non sono facili Ovviamente hai alti e bassi Momenti Dove fatichi un po' di più Momenti più semplici Però Devi comunque Dedicare tempo E a volte Tanto tempo All'altra persona Che magari sta Passando un momento Difficile Piuttosto che E tu magari Vorresti finire il tuo video Finire la tua roba Che devi fare Andare a girare Quella cosa Che devi girare Ma è un'altra persona Che ha bisogno di te In quel momento E tu non è che puoi dire No 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 Adesso devo fare le mie cose Ciao Cioè devi comunque Imparare a bilanciare Entrambe le cose E io sto imparando Pian piano A capire come Come bilanciare Quello che voglio fare Con Kelsey In questo caso Che qua sta Sente il suo nome Ma Devi Devi imparare a bilanciare Quello che stai facendo Con l'altra persona Che deve capire Uno Che cosa fai Quali sono i Anche perché Non stiamo parlando Di Justin Bieber O artisti Giganteschi The Weeknd O che ne so Bruno Mars Dove sono immensi Cioè io Comunque Non mi ritengo Nessuno Nulla di che Cioè faccio le mie robe Faccio i miei video E va bene E per un'altra persona Non è facile comprendere Che comunque È delle responsabilità Per quanto Possa sembrare A volte un gioco Se vuoi Fare video Però è effettivamente Un lavoro E Mi è capitato di spesso Di sentire altre persone Ma anche amici O persone Vicine Mi dicono Ah sì Vabbè ma ti lamenti Perché stai andando A Dubai Adesso Devi ripartire A fare questa roba qua Però Ed è assurdo Me ne rendo conto Anch'io che sia assurdo Però Ci sono volte Dove effettivamente Io preferirei Starmene a casa E rilassarmi Un pochino E riposarmi Anziché Per partire Andare a Dubai A fare questa roba qua E so che sembra ingrato E uno ti può insultare Per una roba del genere Però la verità È che quando poi Lo fai come lavoro È effettivamente Un lavoro E quindi Richiede Un certo tipo Di mindset Devi restare Concentrato Su quello che stai facendo E quindi Devi avere una persona A tuo fianco Che capisca questa cosa E ti possa supportare Ti possa dare una mano Quando ne hai bisogno E allo stesso tempo E allo stesso tempo Tu devi essere pronto Quando l'altra persona Ne ha bisogno E quindi Lasciare quello che stai facendo E dedicarti Anche quando hai delle deadline Devi finire delle cose Devi finire delle cose in particolari Ci sono delle scadenze Accesso al tuo capo Che in questo caso E non ci sono delle deadline Cioè tu mi parli di deadline Ma sono cose che ti imponi tu Tu o brand O brand Certo chiaramente Se fai delle collaboration Però comunque Sono delle deadline Che puoi in qualche modo Plasmare e spostare Quindi tu decidi Di dire Ok nel giro di sei mesi Faccio uscire 150 video Sei tu che lo decidi Quindi sei tu Che ti metti in testa Questa cosa Non noti che Da un certo punto di vista Possa diventare Altamente alienante Questo rapporto con YouTube Perché è l'unica piattaforma L'unico lavoro Che appunto Va a coprire un po' Aspetti altamente tossici Ovvero Non è mai un diretto accesso Al tuo capo Non è mai un diretto confronto Devi sempre pubblicare Perché per forza di cose Se non pubblichi Non esisti Se non pubblichi Non esisti No no certo È che sei il capo Di te stesso E quindi Quello che farebbe un capo Tu lo devi imporre A te stesso Cioè per esempio Io quando Anche adesso che sono a casa E monto i video Fondamentalmente Perché non sono stato In giro ultimamente Lavoro dal mattino Mi sveglio Mi faccio la mia colazione Vado a farmi una corsa Torno a casa Una volta tornato a casa Mi metto al lavoro Lavoro Stopo per pranzo E passo del tempo Con mia nonna Magari un'oretta dopo Ci prendiamo un caffè Chiacchieriamo Torno al lavoro E mi faccio Dalle due Alle sei di sera Lavoro Quando i miei Tornano a casa Dal loro lavoro Stacco Chiudo tutto Finisco le due robe Che devo fare Chiaramente E per me la giornata È finita Passo del tempo Con i miei E poi magari Dopo cena Mi rilasso un po' Gioco alla playstation E sembra assurda Questa roba qua Anche quando hai Delle scadenze Delle robe Che devi finire Ma essere veramente Rigidi Con queste tue scelte Secondo me è fondamentale Per poter restare A lungo termine In questo mondo Perché se ti prosciughi Ogni giorno Andando a lavorare Fino a mezzanotte Certo ci sono i momenti In cui puoi farlo Dei momenti extra Va benissimo Ma sul lungo termine È insostenibile Ed è comunque giusto Potersi rilassare E per gente esterna Che non vede Effettivamente Cosa stai facendo Perché magari Vede solo i video Può sembrare Comunque strano Adesso sempre meno Soprattutto se Se si stanno normalizzando Un po' Capisce che dietro un video C'è un sacco di lavoro Però per altre persone Io lo noto ancora Che ti guardano come dire Giocare la playstation Ma che stai facendo Che hai fatto Sì sì Però vabbè Chi se ne frega Nel senso Possono pensarla come Anche perché solitamente Come parlavamo prima Cioè sei sempre da solo A fare tutta la programmazione Il marketing Devi gestirti tu Gestire anche Un po' come pubblicizzarti Promuoverti Tu fai tutto Cioè ognuno Ogni persona che fa youtube Fa tutto È per questo che dopo un po' Serve una struttura E ti servono delle persone Che possono darti una mano Perché così Tu puoi concentrarti Sulle robe Che veramente ti interessano E il resto Delegarlo Che è fondamentale E io lo sto capendo adesso Forse avrei dovuto capirlo Un po' prima Ma Perché se no diventi Schiavo di te stesso Chiaro Questo poi diventa Pericoloso Senza pure dubbio Ho ancora da chiederti Due cose La prima cosa è In questo momento Io sto facendo Tanti contenuti diversi Hai visto qualche video Quindi ho fatto Qualche video Molte malloriano Forse è una delle persone Da cui mi ispiro di più Mi piace davvero tanto Il modo che lui ha di comunicare Ho fatto dei podcast Cosa che invece Mi sento proprio a mio agio Mi piace anche Anche questi farli E poi ho fatto altri vlog Ho raccontato storie Più Più leggeri Che consiglio mi dai Per Diciamo Trovare una nicchia Io faccio questa fatica qua I miei piccoli iscritti Stanno crescendo poco alla volta E io mi rendo conto Che faccio proprio fatica A trovare una mia identità Perché Non voglio smettere di fare podcast Adoro fare podcast Adoro parlare con gente che seguo Soprattutto perché Sono delle domande A cui io voglio una risposta Capito Tutte le cose che ti ho chiesto oggi Sono domande che vorrei farti Cioè avrei voluto farti io Nel corso di questi anni Che non ci siamo visti Però Non voglio smettere di fare Dei vlog più leggeri In cui esploro la città Ma allo stesso tempo Non voglio nemmeno Smettere di andare Appunto a fare Video e malloriano Che tra l'altro È l'unico in Italia Che fa una roba del genere No? Sì 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 È capitato che Nell'ultimo video Un mese fa Lui mi abbia commentato Sul video E mi ha detto Hai fatto un bel lavoro Affila ancora la tua lama No? E questa cosa qua Mi ha dato Ovviamente tanta gioia Perché è una persona Che seguo Che apprezzo E questa cosa Mi ha un po' modulato Mi ha un po' spostato Nell'andare a cercare Di nuovo Quel tipo di contenuto Però poi mi rendo conto Che mi piace Spaziare e variare Che consiglio mi dai Con due cappe e mezzo Iscritti Di fare questa cosa qua? Beh Diversificare È utile su YouTube Nel senso che Se hai una nicchia precisa È più facile Quindi se fai podcast E hai un chiaro obiettivo Con quel podcast E vuoi conoscere persone Eccetera Pubblichi Non sul tuo canale Su Obsessed No 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 Tutto sul mio canale Tutto sul mio canale Tutto sul mio canale In realtà Potrebbe aver senso Farlo sul canale Dei podcast Quella roba lì Quindi resta podcast Ed è quel formato La gente torna Vede sempre quella roba lì Se no è difficile Cioè Ti iscrivi al canale Ma poi vedi altri video Che non ti interessano E quindi Dici Quindi Per esempio Il podcast Siccome è proprio chiaro E Quella roba lì Che abbia il suo canale Faccia le sue robe Secondo me È la cosa migliore E poi Su di te Quello che tu devi trovare È la tua voce Il tuo modo di comunicare Chi sei tu Che è la roba più difficile Del mondo Sì infatti Soprattutto se non hai Cioè se parli di parchi divertimento Trovi la tua voce Ma in quel mondo lì E quindi hai una nicchia Hai un mondo E quindi bene o male Va benissimo Cioè quello c'è Quando spazi Sulla tua vita Sui tuoi interessi Le tue robe L'ideale Se riesci a trovare Una tua nicchia Che sia Un tuo punto di vista Un tuo angolo È chiaramente Molto più semplice Che non è dettato Necessariamente Dallo stile Della parte tecnica Di come fai le cose Cioè non Togli tutta la parte tecnica Come insegna il Bonchesi A cui torniamo La parte fondamentale È il contenuto Quindi Quello che tu racconti Tutti i giorni Quello che effettivamente fai È ciò che puoi fare La differenza Per cui Concentrati Sul contenuto Il più possibile Che non vuol dire Necessariamente Avere le informazioni Tutte corrette O deve essere Preparatissimo Vuol dire Semplicemente Chi sei Quali sono i tuoi Tratti distintivi E come li comunico Al pubblico Che sto creando Di modo Che sia chiaro E io stesso Faccio fatica Con questa roba Ma soprattutto Spaziando su tanti argomenti Non è facile Avere una personalità Una forte personalità Chiara Come Casey Aiuta tantissimo Certo Ovviamente È basato su quello Il suo mondo Però Devono essere chiari Questi punti Se per me È New York Parlare di Mental health Che è una roba A cui tengo molto Piuttosto che Di musica Cioè Ci sono degli elementi Chiave Che tornano E più li rendi chiari Più La gente capisce Ti inquadra E sa chi sei Più riesci a crescere Velocemente Però deve essere chiaro Chi sei tu Quindi quello Chi sono io Come mi esprimo Poi tutta la parte tecnica Di come la racconti Cioè la stessa storia Che racconti Alla e Malloro La puoi raccontare Alla Chesi La puoi raccontare Alla Yaki La puoi raccontare In mille modi diversi Ma quello viene dopo Ed è la macchina Che spinge tutto Perché ti piace Lo stile di Malloro Quindi cerchi di riprodurlo In parte di magari farlo A modo tuo Ma benissimo La macchina che spinge avanti Però poi Serve anche la benzina Dentro la macchina Che è il contenuto effettivo Di ciò che vai a comunicare È l'unico modo Per essere unici E ascoltare Quello che hai dentro Guardarsi dentro Il più possibile Per capire Chi sei Una volta che tu lo capisci Poi lo puoi comunicare Agli altri Fagli vedere un po' La tua chiave di lettura Al mondo Molto interessante E dato che ne hai parlato Tu hai mai fatto terapia? No Non ho mai fatto terapia No In realtà Mi piacerebbe iniziare Ma non Ho tanti amici Tante persone che conosco Vicino a me Che lo fanno Io non ho Non ho mai sperimentato Ho sempre Fatto self-terapia Ok Tantissimo Penso tanto Ragiono tanto E riesco ad arrivare A delle buone conclusioni A Mi sono sempre trovato Molto bene con me stesso Cioè esplorare tanto me stesso E non ho mai sentito il bisogno Perché non mi sono mai sentito Non ho mai sentito La necessità Di un aiuto esterno Ma mi piacerebbe provare Per capire Se effettivamente Mi può dare qualcosa in più Che io A cui io da solo Non riesco ad arrivare Se lo farai sicuramente Lo farai sapere Sì 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 Ci sarà sicuro Dove ti vedi da qua Nei prossimi cinque anni? Dove ti vedi Nei prossimi cinque anni? Probabilmente negli Stati Uniti Ok Nei prossimi cinque anni Ma una cittadinanza? Non so se cittadinanza Ma almeno una green card Spero di sì Così da avere un pochino Più di libertà E Ti piacerebbe continuare A fare i tuoi contenuti Aprire un studio creativo Un'agenzia Un'azienda? No Non sono interessato Agenzie E altre robe Principalmente mi piacerebbe Strutturare bene i contenuti Di modo che Sia una macchina Che può continuare A raccontare storie interessanti Di diverso tipo Uno Due Sicuramente Continuare a esplorare Il lato musicale Magari avendo dei live O qualcosa di tangibile A contatto col pubblico Magari mischiato Al mondo del teatro Che io ho esplorato tanto Più da piccolo E E poi mi piacerebbe Pian piano avvicinarmi Al mondo del cinema Anche Siccome l'America È il posto Dove Per eccellenza No Hollywood Potrebbe essere interessante Cominciare a esplorarlo Non so in che modo Nel senso che Non necessariamente Davanti alla camera Non necessariamente dietro Magari Di fianco Non lo so Però mi piacerebbe Nei prossimi cinque anni Esplorare anche questo mondo Ottimo Grazie Efra È stato un piacere Ci rivediamo tra tre anni Per la terza volta Grazie Ciao Iscriviti al清ho Iscriviti al caudo Grazie a tutti.